Ciao sono Angela, vi do il benvenuto da Falconeri presso il centro commerciale Legru. Il nostro core business è il cashmere ultra fine. Il cashmere Falconeri ha una filiera produttiva ad avio tra il Veneto e il Trentino. Ha una lavorazione rasata, il che permette di essere indossato a contatto con la pelle tutto l'anno e ha la caratteristica di regolarsi in base alla temperatura corporea. Abbiamo oltre questo capi come i piumini reversibili con all'interno il cashmere, la maglieria in seta, seta cotone e cotone sia per la collezione donna sia per la collezione uomo e pantaloni, gonne, abiti in altissima qualità. Adesso che arriva l'estate le nostre filversive permettono di avere comfort e freschezza. Per tutti i clienti che scaricheranno l'app io e Legru dal 5 al 7 maggio. A fronte di un acquisto in maglieria, seta e seta cotone avranno diritto a una fantastica borsa in Utah.